Fondi per i giovani agricoltori e per contrastare i danni da peste suina negli allevamenti. Sostegni per il mantenimento delle razze e per la ricerca. Aiuti per interventi a favore delle fasce ecologiche e per la diversificazione delle varie attività, agriturismi, fattorie didattiche, trasformazione, olio ed enoturismo. Risorse del PNRR per la meccanizzazione agricola per diminuire l'impatto ambientale delle aziende. Arrivano poco più di 130 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura Emiliano-Romagnola, soddivisi in oltre 20 bandi all'interno del pacchetto di interventi del completamento per lo sviluppo rurale 2023-2027. I bandi saranno concepiti attorno a diverse logiche. Reddito e competitività, ambiente e clima, sviluppo del territorio, oltre all'obiettivo trasversale della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale. Attorno al tema del reddito e della competitività saranno a disposizione 35 milioni, a supporto degli investimenti sostenuti da giovani agricoltori e per l'insediamento dei giovani e per la prevenzione dei danni da pestesuina negli allevamenti. Per ambiente e clima sono stati riconosciuti dalla Regione 31 milioni, un terzo destinati alla gestione attiva di infrastrutture ecologiche, corridoi e fasce ecologiche, il mantenimento delle razze e delle specie a rischio di erosione genetica, interventi in apicoltura e nelle risaie per la tutela dei castanieti da frutto di valenza ambientale o paesaggistica, per il ritiro dei seminativi dalla produzione e il mantenimento di impianti di imboschimento per la trasformazione a bosco di impianti di arboricoltura. Per ridurre gli impatti ambientali, i bandi prevedono invece investimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, sostenendo le imprese nelle migliore gestioni degli effluenti zootecnici nelle fasi di stoccaggio e di distribuzione. Investimenti anche per la produzione di energia rinnovabile, per la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui di origine agricola, zootecnica e forestale. Sostegna anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili e all'immagazzinamento stabile del carbone attraverso la distribuzione del carbone vegetale da pirolisi nei suoli.